www.feyyaz.tv 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 Sì, sì, l'ho preso. Sì, abbastanza. C'è un po' di sposizione che lo devono andare in carico. Sì, è la nostra. Oh, ma il rigore non è preso. Non lo testiamo tanto. Quarto. Quarto. Travo sto portiere. Ah, io li prendo... Adesso faccio prendere l'oro che... E' importante, a noi ci non piacciono il ritiro. Neanche un giocatore così al torneo. Ma c'è una... Tutta di fuori. La palla, Pippo! No, 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 no. La palla, ma... E' dietro, dietro! E' dietro! Bravo, Luigi! Bravo, Luigi! Vediamo alto l'odore delle ode, cazzo! Vediamo alto l'odore delle ode, cazzo! Vediamo alto l'odore delle ode, cazzo! Vediamo alto l'odore delle ode! Ma guardate al piede qui, eh. Guardate io! guardate al palco! Ecco, ma guardate al palco! Bello! Sì, sì. Andiamo al piede! Andiamo al palco! Non so se abbiamo più di fatto la palco! No, no, con la stessa indiferenza non perdevamo. No. No, mi sono arrivati primi. Insomma, se vuoi l'ombrello lo prendo qua. No, non si appende. Ma ha vinto la magna? Non lo so. Quello di piccolino l'hai già visto, quello di atta sinistra. Bella Icce. Bravo Gigi. Fanno un altro, dai. Sì, sì, lo so, sì, sì, sono ancora i quarti. No, quarti, sedicesimi, che quarti? Sedicesimi, Filippo, non quarti. Questa è quarta di finale? Sedicesimi, dopo Ottavio ci sono. No, non è sedicesimi, questo. Loro hanno saltato il turno, è già Ottavio. È già Ottavio allora. Dama ha già visto il turno e c'è il quattro. Vabbè, giusto a te, perché? Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sotti, vai indietro, tutti! I due lì dietro ha fatto un'ereta, dalla qui! Adesso battono la squadra di... Mi stanno facendo vedere la parola... Cazzo due dita! Come giocano? E loro sono messi bene intorno con questa differenza di scuola. Cazzo due dita! E' gazzato! Tutti i gol usano! E poi gli dà, poi gli dà! No, è gialla, è gialla! Ho visto mai che... Wow! Wow, Pippo! Wow, Pippo! E tu da leone, signale! E' accontente di faccio il video! Qual è il giorno della partita? Eh? E' lì che giro la partita! A montarlo! Si, si, ok, giro la partita, va bene! Scrivi che giro la partita sul mio gruppo! Sì, troverai la partita sul montaggio di eventi sportivi! Dì che poi gli mando il link! Ecco, scrivi così, dai! Che poi gli mando il link della partita che caricherò! Su montaggio di eventi sportivi! Poi gli scrivo! Quanto pesa il cuore di matti ragazzi? Quanto manca? Due minuti! Due minuti, Luigi! Aspetta, ma voi avete visto anche lei? Ma devi anche tenere alto l'onore delle onze! Guardate che è stato da partita! Quanto fa! Errore! Non fai le foto, Tommy! Vai lungo! Vai lungo! Vai lungo! Dai che sono insieme! Dai che sono insieme! Ragazzi, mi sono fatto bene! Non dà in porta e non dà in porta! Guarda come guarda! Comincia ad abbiarsi! Hai sentito? La cucina? No, va bene! Non ci credo! 2-2! Ma non ci credo! Vai Rigori! No, vai supplementare! No, Rigori! Ha segnato l'ultimo secondio! No, 30 secondi! Teccalo! Vai Marco! Non c'è l'ultimo secondi! Non c'è l'ultimo secondio! Inizio! Ma dita! Non c'è la città! Dove è il gol cattivo? Rigori! Ma devi prendere il gol! Ma piazza! Ha dominato i gialli! Che gol di culo! Franco! Vado un video che ci sono i rigori Vai Tommy Vai Ma porca troia Dai ragazzi Vai di là Sì la sto prendendo Sì Bravo Gigi A Luigi Questo si leva quando davanti Ciccio Ma non finisce a mezzanotte Ma va Questi sono i quarti di finale Tira il terzo Valtese Non lo calcia Valtese E tirerà il quarto Questo è il terzo Non ci credo Non lo voglio Se segnano avanti Non lo voglio dire avanti Sono un cazzolo Perché sto andando avanti Tira Mi è incredibile Non lo voglio dire No lo voglio dire No lo voglio dire Grazie a tutti.